È una figura in grado di ricavare insight da enormi quantità di dati strutturati e non strutturati allo scopo di aiutare a definire esigenze specifiche obiettivi aziendali allora ho fatto bene Data Scientist Questo è il Data Analyst che mi sono già giocata mi è rimasto un web editor Data Scientist Non dovrebbe essere il web editor ma Tutti gli scienziati lavorano in un laboratorio oscuro tranne lui I Data Scientist sono esperti che analizzando i dati provenienti da diversi canali aziendali riescono a cogliere delle evidenze che possono portare opportunità nello sviluppo di nuovi obiettivi aziendali Mescolando le diverse provette di dati puoi trovare la soluzione giusta per il tuo business e poi la soluzione giusta per il tuo business